Salve a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video ebbene sì ebbene sì mi sono lasciato tentare di nuovo a parte gli scherzi come avevo detto due settimane fa avevo messo in vendita la mia mini smart band 8 e se l'avrei venduta avrei acquistato la mini smart band 9 così è stato l'ho venduta ieri su subito e quindi con il ricavo fatto ho preso la mini smart band 9 quindi che dire andiamo subito a farne un video di unboxing ok ragazzi eccoci qua con la nuova e questa volta veramente la nuova fit band di casa Xiaomi la smart band 9 cosa possiamo notare rispetto all'altra fit band almeno al lato estetico esterno che qui c'è un QR code in spagnolo non so come mai dove ci mostra scansionandolo in vari manuali di tantissimi telefoni ho controllato prima ma vabbè niente di che le scritte questa volta sono nere decisamente meglio si leggono molto molto meglio rispetto a prima vediamo un po' comunque come al solito cosa troviamo rispetto all'altra sempre 5 atmosfere water resistant più di 100 sport dovrebbero essere sempre 150 all around health monitoring quindi tipo monitoraggio tutto tondo poi scelte multiple di band face quindi penso wallpaper cose del genere vabbè vediamo dall'altra parte schermo sempre da 1,62 pollici frame metallo batteria che dura fino a 21 giorni e motorino della vibrazione lineare per una delicate experience una delicata esperienza vabbè andiamo dietro che forse c'è quello che ci può interessare di più e tra l'altro se lo potete sapere io già mi sono segnato le uniche differenze che abbiamo con la smart band 8 quindi andiamo subito al solo per chi vuole sapere ma che cambia che cambia rispetto alla vecchia vabbè ve le dico fra poco comunque codice modello M2345B1 bluetooth 5.4 quindi siamo passati e già questa è la prima specifica da una 5.1 della band 8 di cui la 7 ricordo che era 5.2 ora siamo al bluetooth 5.4 bene input 5 volte 500 mAh massimi prima era 400 ok poi vediamo cosa potrebbe interessarvi qua allora dimensioni della strap quindi del braccialetto 118 x 18,5 e la band invece misura 48 x 22,5 x 11 mm con un peso di 15,5 grammi credo solo la band più 11,3 grammi il centurino poi qui vediamo cosa c'è altro da vedere color midnight black, xiaomi 9, bla 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 data di fabbricazione giugno 2024 ok e direi niente di che allora quindi ora la vado ad aprire ok abbiamo appena scaldato la custodia si apre molto bene adesivo comunque più largo quindi si tira fuori anche meglio ah qui cosa c'è temperatura di utilizzo da 0 a 43 gradi ragazzi non superate i 44 perché se no comunque allora vediamo un po' il packaging ridotto all'osso rispetto all'altra allora qui dentro troveremo la smart band che questa volta ha una pellicola protettiva sopra rispetto all'altra non ce l'aveva nessuno cosa troviamo qui? manuale di istruzioni che ora andiamo subito a vedere cavetto bianco che che si sporca subito solo per questo ragazzi allora andiamo a vedere il manuale in italiano se c'è ma ci sarà pagina 910 ok vediamo cosa ci dice eh niente di che perché modello già ve l'ho detto prima batteria ok sì delle specifiche allora partiamo subito da che cambia tra la 8 e la 9 perché così poi andiamo spediti allora hanno aumentato la luminosità del display da 600 nits a 1200 quindi il doppio in teoria dovrebbe essere molto più luminoso hanno cambiato i sensori di monitoraggio quindi sono a detta loro più precisi del 15% e aumentata la capacità della batteria quindi come dice qui 233 mAh rispetto ai 190 precedenti ma il tempo di ricarica è rimasto sempre un'ora quindi cosa ne deduciamo che se prima caricava a 0,13 o a 0,15 in teoria adesso a conti fatti dovrebbe caricare un po' più svelto per arrivare a sempre un'ora di carica però erogando più mAh se tanto mi da tanto comunque migliorata la vibrazione dovrebbe esserci un feedback migliore e il bluetooth come vi dice io è un 5.4 e la batteria è passata da 16 giorni di autonomia a 21 che ovviamente non sono mai reali io ci facevo 9 giorni con la band 8 con questo ci farò 10 giorni comunque materiale del cinturino TPU peso netto 27 grammi dimensioni 46,6 x 21,6 addirittura sbagliate rispetto a qui perché diceva 48 lunghezza aggiustabile da 135 a 210 mm frequenza del bluetooth 2402 fino a 2480 MHz bluetooth 4.0 temperatura di utilizzo 0,43 gradi poi credo proprio che sia quasi finito qualche precauzione per l'utilizzo di questa band ci saranno le solite cose anzi faccio così ve le mostro più da vicino poi se ve le volete leggere da soli potete farlo in completa autonomia va bene allora quindi cosa cambia ve l'ho detto non ci resta che andarla ad aprire e ad osservare insieme allora apriamola ok eccola qua la nostra band 9 andiamo a togliere il cinturino ora vi mostro anche questa cosa che non c'era sulle altre band Xiaomi Smart Band 9 costruttore Xiaomi oh bene oh yes ho anche le pellicole protettive credo che le applicherò subito almeno è una cosa fatta anzi no ci ho ripensato intanto accendiamola vediamo se funziona poi le mettiamo comunque allora osserviamola da vicino il braccialetto è rimasto identico anche l'apertura è la stessa non cambia niente sempre molto scomoda secondo me cioè non scomoda facilmente apribile per errore il retro è cambiato abbiamo sempre comunque i sganci rapidi che sono rimasti gli stessi a mio avviso qui l'hanno fatto satinato invece che lucido quindi meno soggetto a graffi è cambiata la parte posteriore dei sensori giustamente perché se li hanno migliorati qui cosa si dice 5 volte massimo 500 mAh il codice modello e le cose che vi ho detto prima bene a questo punto direi di fare l'ultimo test come al solito dell'assorbimento perché mi piace farlo così sono sempre curioso di vedere un po' quanto assorbono ok mi procuro una prolunga come al solito metto un pesetto in modo che possiate vedere spero vabbè grosso modo ok ok ci siamo mettiamola in carica vediamo che assorbimento abbiamo 0,4 ovviamente adesso aumenterà 0,26 ragazzi 0,26 e beh 0,30 ma non si inventa niente insomma se vuoi far sempre la ricarica in un'ora e hai più configurazione come al solito credo che già siamo andati lunghi quindi vi rimando come al solito al video di configurazione per ora è tutto se il video ti è piaciuto metti pure un like iscriviti al canale attiva la campanellina e noi ci vediamo presto con il prossimo video ciao ciao